Mi chiamo Alessandro, ho cominciato a suonare la chitarra e a scrivere canzoni alle etate 15 anni. Era un tempo prodigioso, in quegli anni fiorivano i più grandi talenti della storia della musica almeno del Novecento. Basta citare alcuni nomi come Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan, 67, Indie Puzzle, quelli che sono stati i grandi maestri del rock. Io insieme a una massa di giovani sconfinata cominciai a suonare e a cantare quelle canzoni e a scriverne altri. Ecco, da ogni parte del mondo questa filosofia di vita che queste canzoni trasmettevano si propagava e dava un senso alla nostra vita e oltre arricchivano le nostre vite perché in queste canzoni c'era poesia, si raccontavano di lotte politiche, di diritti civili e cose che prima d'allora non erano mai avvenute. Poi la vita ha cambiato tante cose. Io ho suonato fino a 30 anni come professione, poi l'ho lasciato perdere, ho cominciato a lavorare, ho avuto anche delle crisi profonde, ho conosciuto artisti dai quali sembrava che non si fosse via Tuscì. E' una mistera che è durata circa 20 anni. Alla fine di questo lungo e tormentato viaggio ho ritrovato me stesso e sono andate le canzoni della nuova vita, che così io le chiamo, le canzoni della mia nuova vita. Queste canzoni sono momenti di consacrazione di alcuni ricordi di parti di me stesso che ho ritrovato facendo un viaggio all'interno della mia nuova vita. E sono scritte con estrema cura, con amore e addirittura consacralità. e spero che ascoltandole voi possiate emozionarvi almeno quanto hanno emozionato me. Con questa speranza io saluto tutti i vanti e chiedo la vostra attenzione. Grazie a tutti.